Luca Ghiringhelli, allora si è chiusa questa amichevole in famiglia con la B Italia, te da una parte faragoda all'altra, che esperienza, che emozione è stata per te questa? Credo che vestire la maglia azzurra, anche se per una rappresentativa non ufficiale, è sempre una bella soddisfazione, poi essere io contro Paolo e giocare in famiglia è più bello. Ecco, hai ritrovato anche tanti amici perché con la B Italia oramai per te non è la prima volta, quindi già conosci tanti ragazzi, hai giocato una buona partita, hai giocato a sinistra, ecco il ruolo che oramai è sempre più tuo. Sì, sì, ormai sta diventando sempre più mio il ruolo, però come avevamo detto anche in conferenza stampa settimana scorsa, ormai il giocatore moderno deve sapere giocare a destra e a sinistra, quindi ormai non ho problemi destra e sinistra. Ecco, parlando invece di Novara, un buon momento, sei risultati utili consecutivi, quest'anno li aveva fatti solo all'inizio, è guagliato il trend positivo dunque ad inizio stagione, però questo Novara dà l'impressione di poter vincere tutte le gare. Sì, noi è il nostro obiettivo, diciamo quello che ci prefissa anche il mister, quello quantomeno di andare a giocarcela su tutti i campi e di fare la prestazione, poi il risultato può avvenire o no, però come dice il mister, se noi giochiamo al pieno delle nostre capacità, ce la giochiamo con tutti, mettiamo in difficoltà tutti ed è più facile che vengano i risultati come stanno venendo in questo momento. Ecco, il Crotone ieri sera ha raggiunto proprio il Novara e il Crotone sarà ospite al Piola, sarà una partita ancora più ricca di significati dunque? Sì, il Crotone comunque anche all'andata ha vinto con noi, quindi soprattutto in questo giorno di ritorno si sta dimostrando una buonissima squadra, difficile da incontrare per tutti, non a caso ha vinto anche col Sassuolo, quindi sarà una battaglia sabato.